Una partita non facile, sicuramente siamo stati bravi a fare un break nel secondo quarto giocando la nostra palacanestro a tratti e l'altina è stata molto brava a combattere e a ritornare in partita, poi questi due punti per noi erano troppo importanti noi non potevamo perdere, dovevamo iniziare comunque, dovevamo dare un inizio al nostro campionato quindi dopo sono venuti fuori anche i nervi, la voglia e ne abbiamo avuta di più però sicuramente un po' meglio dal punto di vista dell'intensità rispetto alle ultime uscite però ancora c'è tanto da lavorare, tanto Avete reagito alla grande, all'assenza di un elemento importante come Derrick Marks? Sì, per noi è fondamentale Derrick abbiamo visto durante la Supercoppa di cosa è capace e per noi è una mancanza importante adesso dobbiamo solo aspettare che rientri il prima possibile però è anche vero che abbiamo due partite vicine giochiamo mercoledì e giochiamo domenica e noi ovviamente speriamo che lui riesca a recuperare però nel frattempo, come ha sempre ripetuto il coach, io mi affianco al suo pensiero non dobbiamo cercare scuse stasera abbiamo dato dimostrazioni di poter essere comunque incisivi anche con la sua mancanza, soprattutto in attacco che è dove comunque sicuramente un ragazzo, un giocatore come lui con il suo talento dove ci manca di più quindi ecco, dobbiamo cercare di trovare un equilibrio considerando comunque la sua assenza e dobbiamo farlo velocemente perché adesso abbiamo altre due trasferte e non ci possiamo permettere passi falsi dobbiamo cercare di essere, di diventare solidi soprattutto quando giochiamo lontano da casa nostra comunque questa sera si è visto un pacchetto esterno che pur con questa pesante assenza anche grazie al contributo dei ragazzi più giovani hanno dato risposte confortanti Sì, sicuramente i ragazzi giovani hanno dato tanta energia anche loro sanno che devono lavorare molto come lo sanno loro, lo so anch'io e lo sanno anche gli esterni che partono titolari perché mi ci metto io in prima persona sicuramente c'è bisogno di un miglioramento non mi sento assolutamente soddisfatto per come è iniziato questo campionato probabilmente anche tutto ciò è dovuto a delle difficoltà che purtroppo non sono di pese da noi però c'è bisogno di fare un miglioramento e la cosa buona, la cosa positiva è che c'è tanta voglia c'è tanto impegno poi però bisogna anche dimostrarlo sul campo quindi vogliamo fare bene vogliamo fare bene vogliamo continuare a lavorare come del resto abbiamo anche iniziato a fare questa settimana prima di Latina perché al di là dell'assenza di Derrick abbiamo iniziato anche ad allenarci con più continuità quindi speriamo che non ci siano altri intoppi perché per noi è fondamentale e continuiamo a migliorare godiamoci da una parte questa vittoria ce n'era bisogno dall'altra non è vigilia ma poco ci manca per quelle di si va a Chiesi per un'altra trasferta complicata sì esatto per stasera sicuramente dobbiamo essere abbastanza dobbiamo provare un po' di felicità perché comunque abbiamo vinto e quando si vince è giusto essere felici però non abbiamo il tempo di cavalcare questa felicità non abbiamo il tempo di rilassarci domani ritorniamo in palestra perché come hai detto bene abbiamo due trasferte importanti sono due squadre importanti con giocatori importanti per la categoria quindi per stasera ci rilassiamo ci riposiamo perché comunque alcuni giocatori hanno dovuto anche produrre degli extra sforzi e poi di nuovo concentrati perché non possiamo veramente questa è una squadra che non può permettersi di rilassarsi un attimo quindi bisogna sempre cercare di tenere alta la tensione a partire dagli annalamenti e a partire dall'annalamento di domani grazie a tutti